ciao a tutti come al solito approfitto della domanda che qualcuno mi ha fatto per provare a rispondere su questo canale in modo che magari la risposta possa essere utile a più di qualcuno e come faccio a portare un modello modello 3d fatto in zbrush per esportarlo e portarlo dentro a un altro programma per esempio blender ci sono dei motivi per preferire zbrush ad altri software di modellazione per esempio la possibilità di lavorare con molti poligoni su geometrie molto complesse e anche la possibilità di creare delle geometrie molto morbide per esempio in questo progetto ho realizzato quest'astronave magari in un'altra occasione potrei anche mettere su youtube il video del processo è solo uno schizzo però è stata realizzata con delle tecniche che permettono di ottenere delle linee morbide in altri software è piuttosto difficile riuscire a mettere insieme in questo modo elementi morbidi e curvi insieme con altri elementi rigidi e netti però il problema di zbrush oddio problema insomma diciamo che è pensato soprattutto per la realizzazione di singoli modelli un paesaggio come questo certo lo posso fare però poi sono piuttosto bloccato dal punto di vista del rendering nel senso che gli strumenti interni a zbrush non mi permettono di ottenere facilmente delle dei buoni effetti di rendering su cose complesse come un paesaggio quindi se volessi fare questa scena del dell'astronave che entra in un hangar sarebbe molto complicato realizzarla qui molto più facile magari con un altro software come blender ma come faccio a portare fuori le geometrie da qui e portarle dentro a un altro programma allora in zbrush gli oggetti tridimensionali vengono chiamati tool e si trovano in questo elenco quindi per esempio eccola qua appunto l'astronave unita e si trova qua come tool però all'interno dei tool per esempio io ho anche in questo stesso progetto ecco l'astronave divisa in alcuni pezzi come qui quindi un singolo progetto può contenere molti tool che sarebbero molti oggetti 3d e oggetti 3d che possono essere anche complessi come un'intera scena come questa fatta di ulteriori altri molteplici oggetti in questa scena abbiamo il gli elementi di geometria qua della base abbiamo un terreno messo al di sopra come soffitto e abbiamo il terreno quello grande che fa da sfondo e l'astronave che è stata portata dall'altra parte inoltre ciascuno di questi sub tool come vengono chiamati in zbrush potrebbe essere costituito da più geometrie quindi per esempio quest'astronave in questo caso è fatta probabilmente da un unico oggetto che è stato unito ma questa base è fatta da diversi oggetti anche in questo caso che sono stati uniti ma che potrebbero anche essere separati i colori che vedete sono i polygroups che è il modo in cui in zbrush si può creare degli insiemi di vertici per poterli più facilmente selezionare e che possono diventare in altri programmi di modellazione dei materiali allora il modo in cui io di solito procedo è con un formato intermedio di scambio quindi in blender che è qui se vado a vedere nella finestra delle importazioni vedo che può importare diversi formati allora il formato più generico e comodo è il formato obj il formato obj è una diciamo che nel mondo del 3d potrebbe essere l'equivalente del jpeg un formato che tutti i programmi 3d più o meno aprono però anche con le sue limitazioni a livello di materiali a livello di texture di colori dei vertici la seconda opzione è l'fbx allora in genere preferisco l'fbx semplicemente perché riesco a portare fuori la maggior parte delle informazioni compresi i colori dei vertici e tutto quanto nelle nuove versioni di zbrush dalla 2019 in poi hanno unificato l'esportazione in quest'unico tasto export nelle versioni precedenti invece il tasto export permetteva di scegliere solo pochi formati principalmente obj e per trovare l'fbx bisognava andare in z plugin fbx export import e selezionare qui le opzioni e poi scegliere export e anche per altri formati come per esempio il PLY o l'STL era tutto molto sparpagliato adesso è stato unificato in quest'unico tastino export se lo premo posso scegliere qua sotto il formato allora scelgo fbx e do un nome al file quindi lo chiamo scena perché comprenderà tutto e attenzione quindi a questa finestra con le opzioni allora se voi selezionate selected verrà esportato solo il sub tool che in questo momento è selezionato non è quello che voglio io voglio tutta questa scena e quindi devo scegliere visibile se scegliete all vengono esportati anche i sub tool che non hanno l'occhietto acceso quindi quelli non visibili come formato potete scegliere io di solito non scelgo dei formati di fbx troppo recenti c'è da dire che il supporto fbx è sempre piuttosto difficile perché non è un formato aperto la autodesk mantiene le specifiche per sé e quindi la maggior parte dei software deve un po' cercare di arrangiarsi nel capire il formato di conseguenza preferisco sempre non utilizzare le versioni più recenti in questo caso ho lasciato 2012 più che sufficiente scegliete formato binario perché appunto l'fbx può esistere binario oppure asci ma in asci non viene eletto da blender quindi scegliete binario questa è la direzione dell'asse y dell'asse verticale diciamo in zbrush l'asse z è quello che guarda verso di voi in maggior parte degli altri software la z è quella verso l'alto diciamo che comunque ogni programma 3d ha le sue regole io metto la z verso l'alto perché appunto blender ha la z verso l'alto in ogni caso non è una cosa difficile poi eventualmente ruotare il modello se ve lo trovate storto embed maps significa unisci dentro al file anche le texture e questa è una comodità dell'fbx ma questo documento non ha texture per cui non mi serve questa opzione e queste opzioni qua appunto sono per le texture non mi interessano potrei esportare anche le telecamere oppure no ma la maggior parte delle volte non funziona in ogni caso appunto in genere non è così utile e qui appunto può essere utile esportare i polygroup di zbrush come dei materiali allora se io lascio tutto quanto così e do ok devo lasciare che faccia scorre tra tutti i subtool finché leggo writing data devo lasciarlo in pace perché sta lavorando non fa altro che scorrere tra tutti i subtool che ci sono ovviamente questo documento è molto grosso questo ha due milioni e mezzo di poligoni è tantissima roba e ci vorrà del tempo e il risultato sarà un file piuttosto grosso quando avrà finito appare questa scritta file exported e adesso vuol dire che il file è stato esportato e se io vado nella cartella dove l'ho messo mi ritrovo un file fbx qual è il vantaggio dell'fbx anche che c'è un visualizzatore integrato in windows quindi se ci faccio doppio clic e ovviamente attendo perché due milioni di poligoni sono una gran quantità di dati da manipolare il visualizzatore di windows me lo mostra ecco non ci ha messo tantissimo comunque è una bella comodità in questo momento è una scena che non è molto comoda da vedere con questo visualizzatore però avere già all'interno del sistema operativo la possibilità di vederlo senza dover stare ad aprire un complesso programma di modellazione 3d eccetera è anche facile nel momento in cui mi ritrovo nelle mie cartelle questi file fbx e questo è uno dei motivi per i quali preferisco questo formato ora vado in blender, questo cubo non mi serve, lo cancello file, import, fbx e vado a prendere il documento dove si trova scena fbx allora qui ci sono varie opzioni io in questo momento le lascio come stanno vi consiglio di deselezionare l'importazione delle normali comunque io adesso provo a lasciarlo selezionato così vi faccio vedere cosa succede e come si può eventualmente risolvere il problema questa è la scala quanto deve essere ingrandito o rimpicciolito io adesso provo a lasciarlo a 1 la maggior parte delle volte quando si importa un modello da un programma 3d all'altro ci sono sempre dei problemi di scala nel senso che ogni programma ha le sue unità di misura e si finisce spesso per ritrovarsi con un modello troppo grande o troppo piccolo comunque ridimensionarlo è una cosa da poco e ho lasciato a 1 apposta perché eventualmente vediamo se è da ridimensionare ci vuole pazienza come ho detto perché è un modello molto grosso e quindi in questo momento sta ancora lavorando come faccio a capire quando ha finito? semplicemente lo vedrò apparire qua all'interno dei miei oggetti di scena in questo momento sto ancora aspettando ci vorrà un po' di pazienza è una delle caratteristiche di ZBrush permettere di lavorare con una quantità di poligoni enorme non è consigliato in genere esportare modelli che superino il mezzo milione di poligoni perché altrimenti diventa tutto molto complesso ecco comunque abbiamo affinito perché ho visto che sono apparsi gli oggetti che ho importato e sono anche già selezionati qua non vedo quasi niente in realtà c'è un piccolo qualcosa all'interno e questo è il problema di scala come dicevo quindi cosa faccio? siccome è già selezionato non tocco niente premo semplicemente la S sulla tastiera e poi batto sulla tastiera 100 ed ecco che ho ingrandito poi batto invio che ho ingrandito di 100 volte il mio modello e adesso è abbastanza grande per poter essere guardato e la cosa carina del formato .fbx è che i singoli oggetti vengono importati esattamente come erano in ZBrush quindi se io vado in ZBrush vedo che era costituito da questi sub tool base, soffitto, terreno e astronave unita a uno ed ecco che in Blender mi ritrovo base sono messi in ordine diverso però sono gli stessi oggetti e quindi ho la possibilità di ritrovarli facilmente in più vedete mi ha anche esportato i colori allora sono i colori dei polygroup all'interno di ZBrush però sono stati ognuno di essi convertiti in materiali di Blender per cui sarà facile per me poi eventualmente andare a modificare i materiali comunque se mi dà fastidio vedere i colori devo semplicemente nella modalità di visualizzazione decidere di non vedere i materiali posso scegliere single è un colore unico ed ecco che vedo il mio modello con un unico colore e qui ho già quindi importato il modello ci sono alcuni problemi però come vedete questi cosa sono queste stranezze? sono appunto le normali allora adesso vado a mettere la mia telecamera qui con ctrl alt 0 posiziono la telecamera qui in modo tale da poter facilmente da poter facilmente tornare in questa visione allora vedete prima di tutto c'è il fatto che questo cubo ha i bordi smussati allora in Blender potete decidere facendo tasto destro su un oggetto se vederlo con i bordi netti shade flat oppure con i bordi smussati dipende dal tipo di oggetto che avete di fronte in alcuni casi in questo caso probabilmente è meglio flat esatto si vede molto meglio mi vengono un pochino male queste parti qua comunque il problema è che flat o smooth questi strani segni neri sono le normali sbagliate diciamo allora è molto semplice quando avete la vostra geometria selezionata premete questo tastino qui che sono le proprietà della geometria se andate su geometry data è sufficiente premere questo clear custom split normals data ed ecco che vengono cancellate le informazioni sulle normali sbagliate e vengono ripristinate quelle base e l'oggetto torna perfettamente normale posso scegliere shade smooth o shade flat in questo caso lascio smooth che anche se tra l'altro è abbastanza intelligente quindi avete comunque da capire che questo bordo qua giù del cubo non va smussato l'astronave può avere lo stesso problema clear custom split normals data ed ecco che è tornata a posto ovviamente anche il terreno ecco sia questo sia quello al di sopra quindi se avete per sbaglio importato le normali vedete quei segnacci fate prima questo tentativo ecco qui la mia scena l'ho portata dentro blender è chiaro che qui all'interno di blender posso fare un po' quello che voglio vedete appunto anche le luci che sono calcolate in maniera molto diversa posso spostare la luce in un posto più interessante e adesso la riduco come dicevo i materiali sono tutti modificabili per cui se vado sotto shading adesso per ognuno di questi elementi posso andare a cambiare facilmente qua ho i materiali qua ce n'è uno solo il terreno e posso andare facilmente a scegliere altri colori altre caratteristiche se lo avessi colorato dentro ZBrush potrei utilizzare anche quei colori lì per esempio se questo è metallico niente specular niente roughness molto alto facciamo finta che questo appunto sia il materiale del terreno l'ho chiamato terreno anche quest'altro terreno potrebbe avere lo stesso materiale terreno ecco quindi in questo momento adesso torno nella telecamera posso andare materiale per materiale a cambiarlo questo qui è questo questo rosa diciamo e ovviamente non ha senso che sia rosa e così via li cambio li modifico e ecco che può diventare brillante è metallico può riflettere molto e magari adesso tutti questi altri materiali sono tutti materiali diversi per cui se sto cercando per esempio e uno in particolare se lo cambio da qui e lo vedo cambiare anche nel mio nella mia visualizzazione l'ho trovato ecco questi qua per esempio sono i barilli e quindi che ne so qua o comunque quegli oggetti cilindrici posso andare a selezionare un altro colore per loro e anche cambiargli nome barilli è un esempio posso anche eliminare tutti questi tutti questi materiali e dare un unico materiale a tutto quanto perché no quindi se li ho esportati probabilmente è perché li volevo però per farvi vedere che volendo posso anche semplicemente sostituire tutto con un unico materiale adesso appunto l'astronave anche qua ha molti materiali torno in layout che ho i colori renderizzati adesso posso per esempio selezionare la telecamera e fare tutto quello che mi serve vi faccio vedere semplicemente qualche esempio un'inquadratura più larga poi se blocco la telecamera sotto view lock camera to view adesso posso spostare la mia visuale con i classici tasti per spostare la visuale di blender e la telecamera si sposta ora lo tolgo adesso ho la telecamera qui questa luce qua fuori non ha molto senso che continua ad essere una luce puntiforme la vado a selezionare e magari la porto un po' su qui e la faccio diventare un sole un sole diretto verso la mia astronave molto meno potente torniamo alla telecamera con la rotellina potete ingrandire se non avete fatto lock camera to view e adesso per esempio un'altra cosa che posso fare è aggiungere un poco di atmosfera e quindi aggiungere un cubo che magari andiamo a visualizzare sotto forma di wire per non darmi fastidio adesso lo porto qui lo scalo lo faccio bello grande mi fermo più o meno in maniera tale che cominci da dopo l'astronave in poi e adesso se vado sotto shading al mio cubo gli do un materiale nuovo chiamo nebbia scelgo questo non mi serve faccio maiuscolo A volume volume densità 0,1 0,5 colore vediamo un po' di colore aranciato torniamo la telecamera ed ecco che ho della nebbia sullo sfondo che probabilmente in esagerato 0,5 mi perdo tutto quanto ecco qua che ho portato lontano lo sfondo molto facilmente cosa che in ZBrush sarebbe stata alquanto difficile da fare e ho ottenuto giocando un pochino con la nebbia è anche possibile facilmente ottenere dei begli effetti come questi qua dei raggi in questo momento sto usando il motore di rendering IV ovviamente se passo cycles un attimo ovviamente come sempre la geometria è enorme e quindi ci vuole pazienza ma ecco qua che devo ancora dare tutti i materiali all'astronave potete vedere che nel giro veramente di pochissimo tempo posso avere un rendering di qualità decisamente migliore con dei modelli disegnati in ZBrush dove la capacità di esprimersi può essere molto diversa da quella che si ottiene normalmente all'interno di Blender spero che questo possa essere utile per qualcuno soprattutto per chi appunto lavora in ZBrush e si chiede come poter portare fuori i suoi modelli preparerò anche una spiegazione su come fare la stessa cosa con magari con SketchUp perché anche SketchUp è un altro programma che viene utilizzato moltissimo dai disegnatori e quindi può essere utile sapere anche lì come esportare e portare all'interno di un altro software e quindi spero di essere stato abbastanza chiaro chiedete eventualmente nei commenti sono a disposizione ricordate che sono disponibili su questa pagina gamrod.com barra malisan i tutorial che ho fatto riguardanti Blender questo è un tutorial base per chi non ha mai utilizzato il programma e quindi parte dalle basi e però si arriva a fare anche delle cose come quelle dei materiali che abbiamo visto un attimo fa e questo invece è un tutorial per chi Blender lo sa già usare un pochettino anche se comunque non è basta avere diciamo le minime basi che vengono spiegate nell'altro tutorial e qui per esempio insegno delle tecniche con le quali si può stimolare la fantasia generando delle geometrie anche casuali diciamo comunque cercando di farsi aiutare dalla casualità nella generazione dei propri modelli 3D e anche in questo caso l'oggetto del tutorial è un'astronave ovviamente le stesse tecniche si possono applicare a tanti altri casi gli altri tutorial riguardano invece il disegno principalmente e la colorazione quindi bidimensionali ecco qua scusate se è stato un video un po' lungo però la cosa è un po' tecnica però per chiunque di voi usi ZBrush adesso spero che possiate essere in grado di andare e tornare da un programma all'altro grazie mille e alla prossima